L'errore grave che noi possiamo commettere è immaginare di poterci sedere sugli allori costruiti in questi anni. Noi abbiamo bisogno di coltivare questo protagonismo pugliese, che è un protagonismo fatto soprattutto dai produttori, che le istituzioni hanno accompagnato e che non può attendere i tempi della politica, che a volte sono incompatibili con la necessità delle imprese e dei mercati, che oggi indicano la Puglia come un protagonista importante nello scenario economico internazionale. 300.000 visitatori di questa manifestazione, di questo Wine Festival, testimoniano chiaramente l'interesse che tutte le persone hanno per questo grande vitigno, Negramaro, che ha dimostrato di essere la nostra civiltà, la nostra civiltà contadina, la nostra civiltà enologica, il vitigno versatile da cui noi siamo riusciti a fare delle cose grandiose.